Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Buonasera, benvenuto Gianrico Carofiglio, scrittore. Buonasera Alessandro Sallusti, direttore del giornale e buonasera Stefano Feltri, direttore di Domani. Allora, la positività di Trump toglie l'ultimo alibi a chi continua a minimizzare il coronavirus. L'allarme suona anche per i populisti di casa nostra dove, come sapete, la situazione si sta rapidamente facendo molto più seria. Subito dopo la pubblicità. Gianrico Carofiglio Lei oggi ha scritto un tweet a proposito della positività al coronavirus di Donald Trump che suona così. Auguri di completa guarigione ma è impossibile non percepire il potente messaggio di giustizia poetica di certe notizie. Cosa c'è di poetico? Giustizia poetica è una categoria letteraria, in particolare una tecnica letteraria che risale addirittura alla poetica di Aristotele. Aristotele diceva che le narrazioni sono più potenti della storia, nel senso della storia come disciplina, perché consentono di includere un messaggio, un significato. L'idea della giustizia poetica, che poi è stata teorizzata da studiosi di letterature inglesi nel XVII secolo, è che in una storia chi si comporta in un certo modo sbagliato agli occhi dell'autore, poi ne subisce le conseguenze. Portiamo tutto alla situazione di Trump, risultato positivo al coronavirus. L'idea è questa, naturalmente c'è dell'ironia del tutto sobria su questo e cioè se ci fosse un narratore di questa storia o il narratore di questa storia, chiamiamolo come vogliamo, quello il grande architetto, chi racconta le storie delle nostre vite, ha introdotto un elemento di giustizia poetica, nel senso cioè di un significato morale per effetto degli eventi, chi ha gravemente minimizzato una situazione grave, chi porta la responsabilità, come non diciamo noi, ma come ha detto il suo consulente Fauci, di centinaia di migliaia di morti e di una situazione che si sta aggravando di giorno in giorno anche per l'economia, si trova a fronteggiare le conseguenze della sua grave sottovalutazione. Tutti abbiamo visto le fotografie del Presidente americano, di sua moglie e della consulente che pare li abbia contagiati che andavano allegramente senza mascherine a distanza ravvicinata in spazi chiusi. È quello che succede quando c'è un'epidemia di questo genere. Giustizia poetica significa essenzialmente questo. Shakespeare dice a un certo punto nell'Amleto, pensate che succede quando il bombarolo esplode per via dei suoi stessi petardi. Allora Alessandro Sallusti, tu cosa pensi? Perché è vero che Trump, vedo che sei, che fai segno di no con la testa, adesso ti do subito la parola, però vorrei ricordare che fino all'altro ieri, durante il primo dibattito con Joe Biden, ha ridicolizzato l'uso della mascherina, ha preso in giro il suo sfidante alle presidenziali, il quale peraltro Joe Biden ha fatto il test e in serata è arrivata la notizia che è negativo al Covid e però Biden ha anche detto mi raccomando indossate la mascherina. Ora perché la destra populista si ostina a sottovalutare il virus? Tu l'hai capito? No, non l'ho capito, la cosa non mi fa nessun piacere, però ho detto che Trump non mi è particolarmente simpatico se non per le sue posizioni sulla Cina che mi sembra l'unico nell'Occidente che ha capito quale pericolo e che dittatura sia quella cinese, ma a parte questa divagazione, io trovo sempre di cattivo gusto a prescindere, giocare, ironizzare, addirittura fare degli sberleffi rispetto alla malattia di qualsiasi essere umano, forse anche il peggiore nostro nemico, però mi chiedo perché caro figlio non ha usato la giustizia poetica col significato morale delle vicende umane quando Zingaretti, negando ben prima di Trump l'esistenza del virus, venne a Milano a fare lo spiritoso e poi si ammalò ben prima di Trump di coronavirus. Allora non vorrei che questa giustizia poetica ancora una volta venga usata soltanto contro i nemici politici e non contro gli amici politici. Rapida replica? No, veramente quando io sento il direttore Sallusti parlare di cattivo gusto mi arrendo perché so che è un esperto, quindi non ha da aggiungere altro. Ho capito, io vorrei però ricordare a tutti che Zingaretti è vero che all'inizio... Dove sta il mio cattivo gusto, scusi? Non che mi offendo, ma non ho capito dove è il mio cattivo gusto. Se non si offende, basta guardarsi la collezione del suo giornale per farsi un'idea precisa della categoria. Forse mi confonde con qualcun altro, però capisco che ormai ha preso questa deriva populista. Lei è il più populista dei populisti. Più populista dei populisti. Io però sempre che volevo ricordare che la differenza tra chi come Zingaretti, anche il sindaco di Milano Sala, anche Gori, sindaco di Bergamo, altri hanno all'inizio sottovalutato il coronavirus, però si sono ricreduti in tempi rapidissimi. La cosa che colpisce, e così passo la parola a Stefano Feltri, di leader populisti come Trump, Bolsonaro, Johnson, che fino a un minuto fa hanno sottovalutato, fino al minuto prima di contagiarsi, hanno invitato la gente a non indossare le mascherine, quindi hanno minimizzato l'impatto del coronavirus. Che impatto avrà la malattia di Trump, che è sintomatico, ha sintomi lievi per fortuna, sulla campagna elettorale americana, Stefano? Beh, dipende da alcune condizioni. Se Trump si riprende, anzi, se Trump sopravvive al coronavirus e si riprende, può anche addirittura trarne beneficio. Non sono due ipotesi da poco, ci sono tutti i siti americani che stanno pubblicando dotti e approfondimenti su cosa succede se uno dei due candidati alla presidenza muore prima di arrivare alla Casa Bianca, ma dopo essere stato indicato come nominato, come candidato dal suo partito. Questo è il livello del dibattito in questo momento in America. Joe Biden, che era sul palco del dibattito insieme a Trump, è stato risultato negativo ai test, quindi almeno Trump non lo ha contagiato, ma se Trump sopravvive ci sono due esiti possibili. Uno, diciamo, modello Berlusconi, cioè lui riemerge e dice attenzione il coronavirus è un problema serio, l'ho sperimentato sulla mia pelle e fa il leader responsabile. L'altro è il modello Bolsonaro, cioè il presidente brasiliano, cioè si riprende dal coronavirus e dice vedete avevo ragione io, è poco più di un'influenza, mi sono ripreso. L'alternativa è il modello Boris Johnson, cioè riemerge, dice sono stato male, ho fatto alcuni errori e poi continua a fare gli stessi errori e continua a risultare impopolare perdendo l'effetto traino, l'effetto simpatia che si genera quando per diciamo umana solidarietà una persona sta male e poi si riprende, quindi tutti come è stato con Berlusconi, tutti e nessuno spiccava un esito diverso che la sua piena ripresa, anche se lo stesso Berlusconi per esempio è ancora malato tecnicamente. Sì, è vero, è vero. Professoressa Viola, le voglio chiedere questa cosa, perché si ha l'impressione che ammettere la propria vulnerabilità al virus sia incompatibile con l'immagine del leader potente, forte, maccio, populista. La vede anche lei questa correlazione? Allora, secondo me un leader politico dovrebbe preoccuparsi principalmente di non sembrare superficiale, disinformato, irresponsabile e purtroppo abbiamo visto sia Trump sia Bolsonaro hanno avuto atteggiamenti superficiali, irresponsabili e hanno mostrato una chiara disinformazione, una chiara mancanza di competenza nelle materie scientifiche che non è tanto la competenza ma quanto di non riuscire a distinguere le notizie vere, la vera scienza dalla cattiva scienza. Ricordiamo tutti l'idrossiclorochina presa come forma preventiva nonostante Fauci dicesse che non serviva. Ricordiamo appunto come è stata sbeffeggiata la malattia considerata non più di un'influenza, la mascherina, il disinfettante per via endovenosa. Insomma, tutte queste cose sono chiaramente più preoccupanti secondo me che non l'aspetto da macio. Tornando all'aspetto da macio, da scienziata mi viene da dire che non ha molto senso mettere in discussione il proprio ruolo da, appunto come ha detto lei, da macio per un'infezione come il Covid-19 non ha molto senso in quanto questa non è una sindrome da disfunzione rettile nonostante il testosterone sia stato abbondantemente tirato in ballo in questa malattia. Per spiegare la maggiore suscettibilità degli uomini rispetto alle donne non stiamo parlando di una sindrome in cui la carenza di testosterone possa causare un maggior rischio di contagio. Quindi non bisogna vergognarsi mai, adesso a parte di scherzi, non bisogna mai vergognarsi delle proprie malattie perché non è colpa nostra se ci ammaliamo assolutamente. Certo, Gianrico, caro figlio, da noi anche Salvini ha un rapporto ondivago col virus, con le mascherine. Quanto lo ha penalizzato da un punto di vista del consenso? Perché ha perso comunque 10 punti rispetto al 34% delle elezioni europee e a proposito di impatto? Prima Stefano Feltri diceva che Trump rischia anche di essere avvantaggiato da questo incidente di salute e di percorso. Come ho detto più volte in questa trasmissione, io non sbaglio mai una previsione per una ragione molto precisa, cioè non ne faccio. Figuriamoci se la faccio rispetto alle elezioni americane che ci hanno abito. No, 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 no. Certamente, era per rispondere all'ultimo segmento della sua domanda. Quanto a Salvini, io non credo che sia il suo atteggiamento, apprezzo l'eufemismo che lei ha adoperato, ondivago rispetto al tema dell'epidemia, non da solo perlomeno ad aver prodotto lo smottamento di consensi che è ancora in corso. È tutto quanto un meccanismo di assenza di contenuti politici, di messaggi assolutamente vuoti, stereotipati, ripetuti ossessivamente. Questo funziona per un breve periodo di tempo, ma non funziona a lungo. Non ricordo chi ha detto che si può prendere in giro una singola o poche persone per tutta la vita o molte persone soltanto per un breve periodo, non tutti per tutta la vita. Sai, io mi intendo di poche cose. Un pochino di libri, un pochino di diritto. Mi viene da fare un parallelismo rispetto al mondo dei libri, guardando la parabola, non della Lega, ma di Salvini proprio. Sa, ci sono alcuni libri scritti da youtuber che la prima settimana, le prime due settimane hanno un'impennata incredibile, vanno in classifica, a volte vanno addirittura al primo posto e tutti guardano questo fenomeno, diciamo letterario, tra molte virgolette, e due settimane dopo precipitano e scompaiono. Io percepisco qualche somiglianza con l'esperienza personale del leader leghista Salvini. Salvini. Ma Alessandro Sallusti, Salvini sappiamo, anche perché lo seguiamo, è da ieri in Sicilia, dove domani comincia il processo per la nave Gregoretti, dove lui è imputato di sequestro di persona. Giorgia Meloni e Antonio Tajani lo raggiungeranno per solidarietà e ci sarà una tre giorni praticamente di iniziative e manifestazioni politiche. Allora, rischio cluster a parte, speriamo bene, basterà per recuperare consenso e per riguadagnare la scena politica. No, non credo, non credo che basti una tre giorni, una manifestazione per recuperare consenso. Però a me sembra che non solo stasera, ma in generale è da un anno circa, che ogni sera e ovunque, ogni mattina sui giornali si dà Salvini per morto. Ora, Salvini è passato dal 30 e passa per cento di quando era al governo con una visibilità tazzesca e è passato al 24, 25, bisognerà vedere poi alla fine, da leader dell'opposizione. Mi sembra un percorso assolutamente naturale e rimane il partito che ha il maggiore consenso in Italia. A me sembra di rivedere l'epopea berlusconiana, cioè per quasi vent'anni a ogni flessione di Forza Italia, a ogni incidente al Cavaliere, basta, Forza Italia era morta e il Cavaliere era finito. Dopodiché è stato sulla scena politica alla grande per un ventennio, Salvini non so quanto ci starà, ma non vedo gli indizi di dire che Salvini è morto e quindi ce ne siamo liberati a chi piace o purtroppo è morto a chi non piace, perché mi sembra vivo e vegeto. Che questo poi sia un problema o non piace è un altro discorso, ma non capisco dov'è. I 5 Stelle sono morti politicamente in questo anno, Renzi è morto politicamente in questo anno, lo dicono i sondaggi, lo dicono anche i risultati elettorali delle elezioni amministrative. Non vedo questo collo di Salvini. Prima o poi accade tutto in natura e quindi anche Salvini prima o poi cadrà, ma non mi sembra caduto. Senti, ma quando Giorgia Meloni dice, come ha detto stasera, che appunto lei domani andrà in Sicilia perché bisogna difendere la democrazia, pensi anche tu che questo processo alla fine sia una questione di difesa della democrazia? Non sono l'unico a dirlo e non sono a dirlo soltanto nel centrodestra, anche degli autorevoli commentatori addirittura di sinistra in queste ore, in questi giorni stanno dicendo che questo processo inevitabilmente finirà nel nulla se c'è un minimo di... perché altrimenti dovrebbero ovviamente processare tutto il governo per una scelta politica. Quindi io non credo che semmai il rischio arrivi da questo processo che secondo me ben più degli elettori della Lega stanno assolutamente dalla parte di Salvini e dei porti chiusi, anche se non possono ammetterlo pubblicamente o alcuni di loro addirittura lo ammettono. Parlo degli elettori, del sentire del paese. Io magari qualche rischio potrebbe arrivare dagli altri processi, perché lì si parla di fatti reali, di ipotesi di reato, qui si parla di una decisione politica. Lei sta parlando di film commission, le inchieste che sono in corso in Lombardia, a Milano. Stefano Feltri, tu che cosa pensi? Pensi che comunque la parabola sia discendente per Salvini, lo davano i sondaggi fino a poco tempo fa, il 40%, oggi è al 24%, il risultato anche delle ultime regionali e il processo contro di lui. Ha ragione Alessandro Sallusti, in tanti, non solo nel campo della destra o del centrodestra, pensano che siano un'accusa che non regge quello di sequestro di persona. Salvini è stato un ministro, ma è anche un cittadino della Repubblica Italiana e come dice quel cartello nei tribunali, la legge è uguale per tutti. Salvini è accusato di alcune cose precise, non di aver preso delle generiche decisioni politiche sui migranti, porti chiusi che non sono mai stati chiusi, che è così uno slogan, la campagna elettorale. È accusato di aver tenuto in mare della gente che in base alle leggi internazionali doveva scendere a terra e di averlo fatto per ragioni di propaganda politica. Ma il punto non è il movente, che lui lo facesse per avere consensi o qualche like su Facebook, il problema è che non poteva farlo, lui doveva far sbarcare queste persone perché la legge dice che in alcune circostanze devi farle sbarcare in un place of safety, in un posto sicuro. Lui nella memoria difensiva dice che stavano già in un posto sicuro, stavano su una nave e questo però è una interpretazione tutta personale delle convenzioni internazionali del diritto del mare. Quindi lui doveva fare una cosa e non l'ha fatta. Dire che allora se processano Salvini, da processare tutto il governo, la responsabilità penale è personale, qui stiamo dicendo che lui ha fatto un reato, non stiamo dicendo che lui ha fatto una decisione politica, il reato è personale. Se poi ci sono prove che il Presidente del Consiglio ha partecipato, ha fatto delle cose, è un altro discorso, ma ci sono come in altri casi precedenti degli atti concreti, telefonate a cui non viene data risposta, mail che vengono ignorate. Quindi sì è in gioco la democrazia in questo processo, in gioco la democrazia perché perfino un ministro deve rispettare la legge. Un ministro può prendere decisioni politiche, può decidere anche che in nome dell'interesse nazionale vuole violare la legge, se la pensa così, ma poi ne risponde, ne risponde e ne paga le conseguenze. Io non credo che Salvini finirà per questo processo, anche se dovesse essere condannato e come a tutti auguriamo che ne esca meglio di come ci è entrato. Finirà perché lui ha un unico argomento che è i migranti, mentre il Paese ha delle alte priorità sul coronavirus, per esempio lui ha detto tutto il contrario di tutto. E poi ha un piccolo problema, cioè si sta scoprendo che lui ha sostanzialmente con il suo partito ha imbrogliato gli italiani, nel senso che mentre diceva che non aveva soldi per restituire i 49 milioni di Euro che doveva ridare perché la Lega li aveva ottenuti sulla base di sostanzialmente una truffa di informazioni false, riborsi elettorali, tutti i suoi uomini, tutto il suo staff movimentava milioni di Euro dai vari conti correnti. Ecco questa è una cosa che gli italiani stanno cominciando a capire e non gli perdoneranno perché anche gli elettori leghisti sono sensibili a questi dettagli, cioè sono comunque soldi delle loro tasse che lui ha fatto sparire in vario modo. Lui diciamo in quanto responsabile politico di questa organizzazione. Allora adesso parola all'ex magistrato, caro figlio, perché torno a questa accusa che viene fatta a Salvini, che domani dovrà presentarsi in tribunale a Catania, l'accusa di sequestro di persona. Ragione Sallusti che tantissimi pensano che alla fine si risolverà con un'archiviazione tutta questa storia. Lo pensa anche lei? Fa piacere vedere che ci siano tanti esperti giuristi, tantissimi, capisco, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Si studia diritto per molti anni, si approfondisce la giurisprudenza per capire di che si tratta. È come se qualcuno o tantissimi pretendessero di dire la loro opinione su un'operazione al cervello, cioè sostituendo le loro competenze a quelle del neurochirurgo. Il diritto è una materia molto complessa. Diciamo qualche cosa di specifico, non nel merito del processo, perché a differenza di chi va a manifestare davanti ai tribunali, e questo sì è un atto che fa dubitare della saldezza della democrazia, io non amo interferire con i processi in corso. Quindi parliamo in teoria di che cos'è il sequestro di persona e quando può essere invocata, diciamo così, la scriminante, si chiama in questo modo, dell'esercizio del diritto o dell'adempimento del dovere. Il sequestro di persona è quando io privo della libertà personale qualcuno, che significa che se chiudo a chiave qualcuno in una stanza, oppure se impedisco a un barcone che contiene delle persone di scendere a terra e loro hanno diritto di scendere, o se chiudo delle persone in uno stadio, o scegliete voi, diciamo, la formula che preferite, questo è privare della libertà personale. La libertà personale è un diritto tutelato dalla Costituzione, l'articolo 13 della Costituzione dice che la libertà personale può essere limitata solo da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Se questo non c'è, andiamo nel territorio dell'articolo 605, che è appunto il sequestro di persona. Nel territorio dell'articolo 605 è possibile immaginare delle scriminanti e in particolare, da taluni in questo caso, si sostiene che si sia trattato di un atto politico. Allora la giurisprudenza sulla scriminante, devo dare una spiegazione tecnica, mi ha chiesto... Sì, sì, ma quindi aspetti perché... No, io non voglio dire come finirà il processo, assolutamente, dico che in questo caso, secondo la mia opinione, e l'ho già detto prima anche in questa trasmissione, non può essere invocata la natura politica dell'atto, perché la giurisprudenza è la dottrina, cioè gli studiosi, non i giuristi della domenica come i 60 milioni di comitati commissari tecnici, dicono che è possibile immaginare una scriminante per reati commessi in campo politico, ma vanno escluse tre categorie di reati, cioè quelli che colpiscono gli interessi superiori dell'individuo, inviolabili, che sono la libertà personale, l'integrità fisica e la vita. In questi casi semplicemente non è possibile invocare una scriminante, questo è un discorso tecnico, il resto sono chiacchiere più o meno eleganti da bar. Allora, professoressa Viola, torno a lei, perché siccome il governo sta valutando l'estensione dell'obbligo della mascherina a tutta l'Italia, è giusto? E siccome l'Istituto Superiore di Sanità ha detto in serata che non solo che c'è il rischio di un rapido peggioramento della pandemia, ma che in questo caso si è pronti anche a ulteriori interventi. Quali potrebbero essere ulteriori interventi? Allora, per la prima parte della domanda sulla mascherina bisogna fare un attimo di chiarezza. La mascherina usata all'aperto, quando si è da soli, quando si è quindi in condizioni di mantenere la distanza l'uno dall'altro, non è utile, non serve a nulla, perché il contagio avviene prevalentemente nei luoghi chiusi, per cui se io vado a fare una passeggiata da sola in riva al mare, o con mio marito in riva al mare, non sarebbe necessario utilizzare la mascherina. Il problema qual è? Che la mascherina diventa invece essenziale anche all'aperto nel momento in cui la distanza non viene mantenuta. Quindi, per esempio, nei centri città, nelle serate della Movida, nelle serate degli aperitivi davanti ai locali, molto spesso c'è un assembramento tale che non consente di mantenere la distanza. E poiché moltissime persone, anzi quasi tutte le persone, non usano la mascherina in queste circostanze, si sta valutando la soluzione più semplice. Cioè, invece di convincere o spiegare alle persone quando usarla e quando non usarla, si sta optando per usiamola sempre. Io non sono particolarmente d'accordo con questo approccio. Secondo me spiegare e dare alle persone le motivazioni per fare le cose è sempre meglio che imporre. Sì, pensavamo, professoressa Viola, che fosse chiaro ormai, no? Dopo quanti mesi stiamo convivendo con la pandemia. Ma evidentemente no, quindi meglio che mettiamo tutti queste mascherine. Forse si potrebbero aumentare i controlli. Ecco, e questo potrebbe essere una cosa. E invece quali potrebbero essere ulteriori interventi? E allora, qui basta guardare quello che sta succedendo intorno a noi, quindi in Germania, in Francia, quindi si stanno facendo dei lockdown chirurgici, stanno suggerendo fortemente o impedendo alle persone di fare riunioni che siano troppo numerose, quindi chi limita a sei persone, in Germania sentivo 25 o 50 seconda di come va il contagio. Quindi si sta intervenendo con delle misure che tendano a bloccare la circolazione delle persone, perché come abbiamo sempre detto il problema è quello. Se vogliamo evitare il lockdown totale, dobbiamo agire chirurgicamente, andando a toccare le situazioni più critiche. Quindi Alessandro Sallusti, siccome tu oggi titoli il virus salva Conte, il virus continuerà a salvare Conte? E oggi da Bruxelles il Premier ha detto che non sta abusando dei pieni poteri. Cosa gli imputi? No, in questo senso, cioè che mentre fino all'altro ieri il rinnovo dei pieni poteri o era escluso che ci fosse una maggioranza disposta a concederglielo, oppure sarebbe stata un'operazione molto molto complicata, col fatto che il virus ha ripreso forza, questo ha anche una sua logicità ovviamente, e quindi va avanti coi pieni poteri. I pieni poteri che come abbiamo visto non usa solo sul virus, non usa esclusivamente sul virus, ma i pieni poteri di fatto cosa prevedono alla fine quello che a lui interessa? Di non dover mandare in Parlamento, dove soprattutto in una Camera, il Senato ha una maggioranza sempre più traballante, i provvedimenti che di volta in volta approva, o quantomeno, se proprio deve mandarli, mandarli con la fiducia, insomma di evitare che la sua politica venga contata in Parlamento. In questo senso i pieni poteri lo aiutano sicuramente. Sei d'accordo Stefano Feltri, telegrafico? Telegrafico, i pieni poteri non ce li ha nessuno in questa democrazia, neanche Conte. Conte si è preso lo stato di emergenza per poter continuare a fare ordinanza della protezione civile, nominare i commissari come il discutibile Arcuri che non è riuscito neanche a comprare i banchi in tempo. È un fallimento dire che c'è ancora lo stato di emergenza, perché vuol dire che dal 31 gennaio 2019 noi non siamo stati in grado di mettere in piedi un sistema di gestire la pandemia compatibile con le nostre regole. Quindi Conte in realtà ammette il suo fallimento dicendo che ha ancora bisogno dello stato di emergenza. Questa è una cosa, come direbbe caro figlio, tecnica, non è un'opinione politica. Se c'è l'emergenza permanente vuol dire che uno non è riuscito a gestirla e ha fallito nel suo tentativo. E' telegrafico anche lei caro figlio? Sì, io forse non direi fallimento, ma secondo me è un segno di debolezza, non di forza. Allora, intanto noi stiamo chiedendo, come sapete, soldi e solidarietà all'Europa, ma non avremmo proprio tutte le carte in regola per farlo. Ce lo spiega Paolo Pagliaro. Per l'Italia ci sono 65 miliardi, per la Spagna 59, per la Francia 37, per la Polonia 23, per la Germania 22. C'è una tabellina disponibile sul sito della Commissione Europea che spiega bene qual è il trattamento di favore che il Recovery Fund riserva all'Italia nella distribuzione delle sovvenzioni ai Paesi membri. Si tratta di sussidi che non andranno restituiti e che vanno ad aggiungersi ai più corposi prestiti e agli altri stanziamenti previsti dal programma chiamato Next Generation. Anche qui l'Italia è la maggiore beneficiaria. Per apprezzare meglio questa generosità è utile dare un'occhiata a un altro rapporto, sempre della Commissione Europea, che ci vede di nuovo primeggiare. Qui le tabelle sono però dedicate all'evasione dell'IVA, tassa che come vedremo è particolarmente cara all'Unione. Risulta dunque che nel 2018 il nostro Paese non ha raccolto circa un quarto dell'IVA che avrebbe dovuto incassare ed è risultato primo in termini assoluti per perdita di gettito, 35 miliardi di euro. In percentuale fanno peggio di noi solo Romania, Grecia e Lituania. L'evasione dell'IVA è un danno serio per le casse dello Stato ma lo è anche per quelle dell'Unione Europea, che si finanzia con una quota di questa imposta, scelta per le sue caratteristiche di imposta generale, pagata da tutti i cittadini e tale da riflettere le capacità economiche dei vari stati membri. Certo, se un contribuente su quattro non la paga, l'immagine delle capacità economiche risulta falsata e quella della credibilità perlomeno compromessa. Siamo in chiusura, grazie professoressa Viola, grazie Alessandro Sallusti, grazie Stefano Feltri, grazie Gianrico Carofiglio. Linea a Diego Bianca e il suo propaganda live, ci sarà un suo collega scrittore Antonio Scurati, tanto siete tutti e due in classifica e vinca come sempre il migliore, lei per il momento stravince. Grazie e noi come sempre ci vediamo domani alle 8 e mezzo, arrivederci.